Il Veneto non ci sta a firmare il documento sull'autonomia come è stato redatto a Roma. Palazzo Balbi, sede della giunta regionale a Venezia, si è svolta una riunione della delegazione trattante. Presenti dirigenti regionali Caramel, Gasparin Zanon, i professori Antonini, Stevanato, Mazzaroli, Giovanardi e il presidente della regione Luca Zaia. Lavoro, sanità e spesa storica e tre punti su cui il Veneto vuole presentare delle contradduzioni per arrivare alla firma. Io spero che vengano accolte queste indicazioni, ci sono luci e ombre, ci sono aspetti positivi ma ce ne sono anche tanti di non positivi. Per cui invieremo, spero nel giro di 24 ore a Roma, le nostre contradduzioni sperando che si arrivi una firma perché se accolgono le nostre contradduzioni, le nostre osservazioni, noi firmiamo. Sono vari punti da limare per Palazzo Balbi. Noi vogliamo che si firmi una preintesa quadro, ma questa è una questione dalle Gulei, cioè non starei qui a non spiegare, una preintesa quadro e non un'intesa subito. Dall'altro che si definisca un cronoprogramma per il governo che arriva dopo, quindi che chi arriva dopo sappia cosa deve fare e anche con che tempistica nei confronti del lavoro che il Veneto vuole mettere sul tavolo. Ultimo aspetto, anzi ultimi due aspetti, le cinque materie sulle quali già abbiamo trattato, ecco su queste cinque materie, molte di queste cinque materie non hanno avuto poi raccolte le nostre istanze. Penso al lavoro dove di fatto non ci viene dato nulla rispetto a quello che abbiamo chiesto o ad altre materie come la sanità dove ci aspettiamo un po' di più di quello che ci viene riconosciuto. Ultimissimo aspetto, come ho sempre detto, si firma se si abbandona la spesa storica, c'è un segnale nel testo di abbandono la spesa storica, ma chiediamo un passetto in più per poter essere più motivati a firmare. Al momento siamo fermi. Le elezioni politiche a breve possono compromettere l'iter autonomista cambiando l'assetto di chi governerà in futuro? Un processo come quello dell'autonomia non dura due mesi, se non solo due mesi che abbiamo approvato la legge in Veneto per andare a trattare. Non dura un paio di mesi, dura mesi se non anni poi per fare un progetto completo stile Trento e Bolzano. Ovvio che se riusciamo a fare delle firme parziali per cominciare a consolidare e cristallizzare quello che si è deciso, meglio. Se non le si fanno queste firme, vuol dire che faremo tutto con quelli che vengono dopo. Io spero che si accolga le nostre istanze e si cominci a fare una firma, già consolidando un primo pezzetto di percorso piccolo ma sano, cioè deve avere sempre i piedi sul terreno che sia terreno solido.